ahah oddio no 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 penuto 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 ritirata no stasso sbagliato ciao a tutti i creeper io sono celofi e quest'oggi siamo qui con un nuovo video di ARK survival evolved da quando ho messo quelle mod che vi ho fatto vedere nel scorso episodio mi sta prendendo molto di più il gioco perché è molto più tranquillo e giocabile visto che prima schiattavo ogni 5 secondi ma mia guardate che carino è che carino so cosa qui adesso lo prendiamo e questo qui è divertito tipo il mio animale domestico me lo porto ovunque sulla spalla è troppo comodo io ho messo anche la sella ma è molto lento da cavalcare quest'oggi come avete letto dal titolo andiamo a cacciare qualche dinosauro enorme incredibile proprio nelle zone più pericolose del mondo dove siamo andati anche nello scorso episodio cioè da quelle parti però prima controllo di avere tutto che non si sa mai sì ho proprio tutto ragazzi quindi prendiamo nostro pennuto mamma mia epico sto pennuto al quale grazie a una mod adesso posso anche migliorare la velocità del movimento perché prima senza alcun motivo non si poteva perché quelli di ARK hanno deciso a random di togliere la velocità del movimento ai dinosauri volanti perché andatelo a chiedere a loro eccoci alla prima tappa la grande montagna qui oddio che lag della foresta di redwood wow guardate anche qui che zona ok per prima cosa andiamo a vedere se c'è qualche dinosauro interessante tipo t-rex allosauri o robe varie qui e prendiamoci anche il suo coso magico e se non c'è niente e ci sposteremo in un'altra zona però oggi ho visto tantissime cose spero di non morire stando qui aspetta un attimo è pennuto pennuto stupido vediamo niente di che dei progetti oddio che succede che ci è certo ma perché pennuto pennuto seguimi tutti perché se no se ne va chissà dove vieni qui ora che ho visto anche dei t-rex ok guarda ok la ci sono dei t-rex sono due il che non è buono dovremmo farne fuori uno e l'altro pigliarlo come boh questo è difficile adesso di stare fermo e passivo vediamo un po prendiamo le frecce normali grazie a questa mod spettacolare e quello lì se sapessi di che oddio sì è no oddio no no penuto 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 ritirata no stasso sbagliato stasso sbagliato porca paletta ok portiamocelo dietro non era questo il mio piano volevo farlo fuori per prendere l'altro ma vabbè ma io sento un casino devo abbassare l'audio subito e sono anche morendo di sete che può essere un problema sì pennuti altri pennuti vieni qua che vuoi oh no dai che questo si mette a girare in cerchio non lo prendo più vieni qua dai ma che è sta battaglia aerea stupida c'è anche quello lì sotto che aspetta solo di mangiarmi ok atterriamo qui qui sopra e boh non lo so facciamo fuori il pennuto per prima cosa ok dov'è eccolo ok non ce l'ha più con me allora vediamo un po il t-rex porca paletta allora il t-rex è qui è troppo vicino via non ricaricare fuggi e basta sì ma questo ha scalato l'intera montagna per mangiarmi e smettila ho capito che strilli non ce n'è bisogno proprio non saprei come prenderlo se non dovrebbe andare in un punto alto il problema è che è in cima alla montagna ora e la scala come se non fosse niente guarda lì vabbè riprovo vediamo magari questa volta non ce la fa chi può dirlo prendiamo le frecce sedative ok e eccolo lì che si mangia qualcun altro bene ho ucciso come ho ucciso ma scusa io voglio colpire il t-rex ho ucciso qualcuno vabbè ok lui sta lì che sta picchiando con dei raptor sembra e niente io gli sparo intanto lui uccide quelli speriamo che non lo uccidano loro e sembra che vada tutto bene per ora lui sta lì che uccide quelle genti e cavolo lo stanno uccidendo loro cavolo no non deve andare a finire così sta morendo sta venendo ucciso dai velociraptor e niente ci muore il t-rex viene ucciso dai velociraptor e perché si sta mangiando quell'altro penuto vieni qui e ma sta schiettando poverino se ne è scappato guarda è scappato via pensavo che fosse un temibile pesatore invece se ne ha dato a gambe dov'è è là che scappa ancora perché lo stanno ammazzando poverino ok e sì se riusciamo ad aumentarlo il problema è che poi bisognerà affrontare i raptor e che probabilmente morirà oppure no oddio o cavolo ok affrontiamolo in faccia non credo che lo sto colpendo beh che è questo ce l'ho fatta ma è un raptor robot oddio espulsione espulsione ok non certo il pulmino fermi fermi tutti allora dove dove vai ok oh oh altra gente l'abbiamo addormentato non so come ha fatto non morire no 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 porca paletta lo sta mangiando ok dio mio meno male non ammassatelo voi levati di mezzo stupido pulmino oh allora lui si è addormentato dove è finito il penuto lì mamma mia dovrebbe avere un po di cibo lui se non mi sbaglio sì e c'ho fame anch'io fa poco muoio quindi devo assolutamente andare a bere al fiume ok di livello 8 è bassissimo però vabbè un t-rex ha solo mille di vita davvero ma me è pochissimo per un t-rex proprio triste come cosa pulmino te dovresti seguirmi ok allora e adesso la situazione è difficile abbiamo un t-rex di livello proprio triste però ok ce l'abbiamo è in cima al monte quindi nessuno dovrebbe venire a dargli fastidio ma io ho sete quindi devo solitamente andare a cercare un fiume dove bere rapidamente siccome io mi conosco sono sempre così sfigato che alla fine il dinosauro muore per qualche motivo l'ammazzo io proviamo a prendere anche questo qui così in caso se uno muore ci abbiamo l'altro allora come prima provo a farlo avvicinare e poi vediamo passivo sei passivo molto vieni qui come ho fatto a mancarlo scusa porca maletta sì tanto tu perdi tempo strillando io ricarico e scappo scappo via argent via via ok è detto di me perfetto ora niente su quel cucuzzolo lì sperando che non ci arrivi e a questo punto gli spariamo ok eccolo bene 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 da qui credo proprio che non ci riesca ad arrivare oppure dovrà fare tutto il giro ma è troppo stupido per farlo quindi è nostro appunto come stavo sospettando guarda che stupido nell'occhio aspetta ok e niente adesso basta sparargli in faccia lui non si lamenta non dice niente si è già resa al suo destino di che livello è non lo so ma vabbè spero che sia comunque più potente dell'altro batteri tirata si sembra di sì ti è ma mia che musica ansiogena è fortissima poi è non so perché mi sembra fortissima ed è andato si numero due benissimo non so che farci di due t-rex me ne bastava uno ma sicuramente uno dei due schiatta ci scommetto questo è di livello 4 ma che sfiga che ho quello è di livello 8 questo 4 ma questi se non mi sbaglio servivano per qualcosa i cristalli vediamo cristallo servivano tipo per fare il telescopio tele no come che si chiama lì monocolo no no come si chiama boh canucchiare posso farlo con questo possiamo vedere a distanza i livelli dei dinosauri serve soltanto un po di fibra e legno cos'è 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 che mi picchia via mamma mia che è ci sono dei piccoli cose che corrono e mi stanno ancora di guarda quanti oddio venite qua l'ho preso uno sì oddio mi sta mordendo però buttiamolo giù scuè ce l'ha fatto pure la cacca di testa ok per uscire li devo fare così li prendo e li butto giù vado su poi li faccio precipitare addio ma prendono dalla caduta si cosi non sembra proprio se ne frega cannocchiale ok e con questo dovrei vedere a distanza le cose vediamo sì figo ok non si capisce niente vediamo tipo il t-rex ma e sei domesticato ok e ci sono quei cosi li che girano attorno c'ho paura che comunque abbiamo preso uno oddio levalo andiamo a prendere il t-rex amico ciao allora facciamo una cosa tu stai qui che è una posizione molto no anzi seguimi e andiamo dal tuo amico di là ok allora loro sono lì sotto uno si sta ancora domesticando ma non è un problema io gli dico di difendersi e me ne vado un po all'esplorazione lasciandoli lì sperando che ritorno ci siano ancora non vedo niente per fortuna che ho la mappa ma mia un coso leggendario andiamo a vedere un po tanto sta pioggia continua e sembra che sia tipo piovendo fango è tutto marrone allora vediamo un po oddio aiuto c'è un coso c'è un coso lì in mezzo che non esce ok tu ovviamente non fare niente sia mai ci devo pensare io o cavolo non mi aspettavo ma perché cosa sto guardando no colpito il mio amico ma dai quindi ok lui sta lì ci sono dei guanti che non mi interessano sal sella per un cocodrillo tipo muori sei stato imparato eh cosa ah mi ha fatto male ok sì amico facciamo una cosa lasciamo perdere ok andiamoce ne oddio là ci sono gli allosauri quelli mi sarebbero interessati molto prima ma anche adesso sinceramente mi interessano perché sono piccoli rispetto al t-rex sono molto rapidi e qua sotto c'è l'apocalisse perché ci sono 30.000 raptor guarda ma c'è una guerra incredibile qua guarda qua che che storia eh ok possiamo provare però sono distantissimi ci metterei 3 ore e tornare a casa con loro oh ha smesso di piovere credo guarda ciao ma siete lagganti siete anche incastrati che potrebbe essere una cosa vantaggevole vantaggevole che cosa vuol dire non lo so però è molto vantaggevole quindi sei fermo e fermo fermo ok guarda quanto è vantaggevole questa cosa proviamo a prenderli ok che sono a 30 km ma vabbè è vantaggevole quindi guarda se ne fregano sono incastrati ma perché arco mamma mia non ho parole ok vabbè gli sparo se prova ad andare così ma proprio niente non gliene frega cosa è sparito oddio oddio fatti sotto è di livello altissimo questo no 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 mi uccide questo via 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 porca paletta che dolore uno è sparito nel nulla questo qui mi stava per ammazzare ok proviamo ad andarci con l'arco tanto ormai allora oh cavolo è troppo veloce porca paletta è velocissimo non mi si stacca oh è scappato dove sta andando è scappato dalla parte opposta oh porca paletta ciao tieni dov'è il pennuto dov'è il pennuto dov'è il pennuto è qui via via aiuto non si stacca guarda è velocissimo è velocissimo assurdo sto coso sarebbe davvero spettacolare da prendere peccato che mi sta massacrando ok ho ancora un po' di vita posso provarci vieni qui proviamo con lo stecco vieni si pegati questo pegati questo oh oh mi si è rotta l'armatura sta scappando si io ho preso la punta della coda carica sto coso e niente è dato oltre dov'è è svenuto lì porca paletta mamma mia se è stato difficile vabbè proviamo a prendere anche lui e poi torniamo a casa con tutti quanti sarà difficile però ci proviamo dai oh ma cosa succede lì dietro ok allosauro ah allora boh non so i minimi li do completamente random ragazzi ok abbiamo un allora qui ovviamente non abbiamo la sella ma vabbè ok quindi lui è molto veloce il problema è che adesso dobbiamo anche andare a recuperare gli altri due t-rex quindi ovviamente salterò tutto e ci vedremo alla base oppure vi faccio un bel montaggio epico ok smettila di oddio cosa ho vista cos'era ho visto una nuvola rossa suppongo fosse tipo eh un t-rex si è credo che quello fosse un alfa di qualcosa e poi c'è anche un t-rex e l'allosauro è eccolo amico senti non è una bella situazione però qui dobbiamo fare qualcosa al riguardo eliminiamo quel coso facciamoli capire chi è che comanda toh aiutato se ne frega sta attaccando qualcos'altro vai non so di che livello sia no no c'è anche un raptor annullare la missione annullare la missione ripiegare ripiegare finchè si ammazzano fra di loro lasciamo di perdere c'è un raptor alfa ecco cos'era quella roba rossa porca paletta porca paletta si è aiuto perchè non ho più la lancia prendilo pugni colpiccelo e niente mi ha ucciso benissimo ragazzi la situazione è degenerata ho perso l'allosauro ho guardato ovunque ma non lo stavo trovando e a un certo punto mi è piombato un coso addosso dal cielo bene allora adesso dobbiamo organizzare immediatamente una spedizione di recupero ma c'è una sanguisuga oddio non dirmi che è tornata ah sarà quella del dinosauro recupero si mamma mia che cas- cos'è cosa succede ora si è oddio 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 eh si è il disastro ragazzi è il disastro qui ok ho recuperato ho quasi recuperato aspettate ce la posso fare ok ho recuperato gli oggetti si e sono anche morto no scherzo sto solo dormendo oddio perchè stanno attaccando cose? perchè c'è un albero davanti a me? porca paletta è quello c'è un raptor alfa oddio oddio fuga fuga potremmo distruggerlo forse tutti insieme certo loro stanno attaccando tutti gli altri esseri viventi del bosco qui non so il perché vabbè l'importante è che non schiattino andiamo ad attaccare questo qui che tutti insieme ce la facciamo ciao ahah distruggetelo eh però tagliatessila solo non ce la può fare dategli una mano magari ok bravissimi vai eh si lo sfondano oh cavolo questo che vuole aiuto no ma perchè stanno attaccando soltanto in due i t-rex magari che sono i più forti dovrebbero fare qualcosa oddio ci schiattano ci schiattano vai i t-rex aiutano aiutalo t-rex aiuto ok che stanno massacrando sono tutti quanti lì guarda mi hanno dato cose cos'è? elmo osseo per tirannosauro usa per modificare l'aspetto di un elmo o di un cappello tipo così fighissimo ora il mio casco è diventato e questa ho trovato pure una balestra rara rara eh sì questo potrebbe essere un leggero problema tecnico sono più grandi della forte i tirannosauri quindi almeno che non riescano a scavalcare le mura e sembra che non ce la facciano ok uno ce l'ha fatta vediamo un po' se rimango qui dentro magari si convincono ok sono riusciti a passare tre va bene è un buon risultato per me adesso li vado a mettere tutti a posto e se riesco facciamo anche la sella fermi tutti oddio tiranno è bellissimo la facciamo subito cioè la lasciamo castare da sola dai fantasmi e nel frattempo io vado a recuperare quell'idiota che è ancora bloccato eccola qui sei contento eh non tema quell'altro perché te sei di livello basso eccolo qui vai vediamo un po' potenziamo sicuramente la vita il vigore che fa schifo e il danno top vediamo un po' sì possiamo cavalcare un t-rex cavolo è difficile da guidare eh in più da quello che ho visto scavalca il muro dunque non c'è neanche bisogno di fare una porta più grande tanto qui t-rex non ci sono non c'è il problema che entrino in casa dei t-rex selvatici cavolo ma si stanca così velocemente ho l'armatura distrutta ma voglio farvi vedere sa cosa non si vede ah ok si vede sembra di sì ok guarda bello è soltanto una skin ovviamente quindi è come se fosse un elmo di ferro guarda qua vabbè quindi ragazzi per oggi è tutto questo episodio è stato lunghissimo non so ma credo che lo vedrete molto editato molto riassunto e quindi noi ci salutiamo qui qui è è